Il secondo libro che mi capitò, sotticcio, dopo quello di Wilson, fu il volume di un anonimo dal titolo Le Memorie su Napoleone, buona parte di uno che lì è stato vicino per quindici anni. Tanto bastava per inspirare a tutti le iniziali diffidenze. Ma il contesto è lo stile di terra presto al luogo, ha dubbi ancora più positivi per qualsiasi lettori abituati a riflettere. E infine, chi anche abbia visto e conosce anche poco gli imperatori, non esiste. Fin alle prime faccine ha capito come si tratta di una storia romanzata che il suo Tori non ha mai conosciuto né avvicinato l'imperatore. Tutto è lontano, mil miglia dal suo modo di parlare, dal suo appartamento e da tutto quanto lo riguarda. L'imperatore non ha mai detto a un ministro quanti fatti questo, quanti esecchiti quest'altro. Gli ambasciatore non esistevano affatto alla sua toaletta. Napoleone non poteva dare a una signora a quattordici anni. La risposta che gli viene attribuita a proposito dal visconte di Torreni, perché dai dieci ai dieci otto anni frequentò le scuole militari dove non entravano le donne. l'imperatore non fu per niente, ma Degomien, che era stato suo generale, che lo ricomandò tanto caldamente al territorio. È una lettera scritta per ristorare la democrazia e non i borboni quelle che un militare indirizzò al primo controllo. E così via. Ma l'imperatore, che tutti in Europa conoscevano per l'impenetrabilità dei suoi progetti e dei suoi piani, aveva l'autodine di gesti che avrebbero potuto tradirlo. E ancora, quella dei monologhi che altri avrebbero potuto ascoltare. La sua colera non li provocò mai le tassi di epilessia e di pazia. Una diceria ridicola di cui si sono alimentati e lungo certi salotti parigini e che essi stessi avevano finito per dimenticare. Quando è vero, visto che questi incidenti non capitevano mai nelle occasioni importanti, questo libro è senza dubbio stato scritto su ordinazioni per conto di un editori, il quale avrà suggerito anche il titolo. In ogni modo si sarebbe potuto immaginare che con una carriera quasi nota come quella dell'imperatore, di coloro che lo circondavano. L'autore avrebbe potuto dimostrare una maggiore conoscenza della verità e il suo consapevole della propria insufficienza in proposito e cerca di giustificarla, dicendo che ha dovuto alterare i nomi e non ha voluto fare i ritratti troppo sommiglianti. Ma spinge queste circospezioni anche ai fatti che diventano irriconoscibili e per la maggior parte assolutamente immaginari, così che il documento digitale ha qui perdito cosa tanta insietà nel centro dà in capo quelle riccomandazioni da Giovanni Inglesi che riempì da gioia Bonaparte, facendogli attravedere un brillante prospettiva a costante e nobili quella specie di melodrama all'Amazon dove l'eroismo di Madame Bonaparte che l'autore ci dipinge come un amazone. Socorri, con tanto coraggio ed energia, alla salvezza del marito, sono altrettanti storie dell'ultima delle quali si è dato per inciso, ci dimostra che i caratteri e gli atteggiamenti dell'imperatrice Giuseppina non erano all'ordore più familiari di quelli dell'imperatore, tuttavia l'ordore fantano di tanto in tanto la conoscenza di alcuni particolari, sottolineando alcuni fatti e combattendo alcuni menzoni, si dà un'aria di imparzialità che è unita alla sua pretesa vicinanza agli imperatori per ben quidici anni prodotti aglioci in grande pubblico, un meraviglioso effetto. La maggior parte degli inglesi sulle navi credono in questo libro, come una specie d'oracolo. Non serviva a nulla vedere l'imperatore così diverso da caratteri che questo romanzo gli attribuisce. Sono più disposti a immaginare che l'avversità o la prigionia abbiano cambiato l'imperatore piuttosto che pensare che le cose stampate siano semplicemente dal bugie e alle mie osservazioni rispondono sempre. Eppur si tratta di un testimonio imparziale. E dighi, chi glì è stato vicino per quindici anni? Ma chiedevo loro qual è il nome di questo uomo? Se vi avessi offeso personalmente nel suo libro, confaresti a trascenarlo davanti a un tribunale per ottenere giustizia, o chiunque fra noi non potrebbe forse esserli l'autore? Queste ambizioni non avevano ovviamente possibilità di replica, ma era faticoso per loro superare le prime pressioni. Così è la massa e questo l'effetto. E' inevitabilità che producono sempre le voci stampate, comunque non mi fermerò più a lungo su un'opera che non merita che ci si indigni. oltre. Lascio dunque stare il resto, lo elimino. Rileggendo in Europa il mio maniscritto trovo che l'opinione pubblica ha fatto tali progressi che mi vergognerai oggi di confutare citazioni e fatti che l'intelligenza e il buon gusto hanno rispinto dal tempo, e che oggi ritrovano soltanto dalla bocca degli sciocci. Comunque nel distruggere le false immagini che il nostro libro anonimo sia compiaciuto di dare da caratteri tenofolioni si penserà forse che avrei dovuto sostituirvi le mie. Mi ne guarderò bene. Mi contenterò di registrare quel che ho visto, quel che ho inteso, riferirò le mie di conversazioni. E non, nisiquiera altro. Grazie. 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 Grazie.